musica 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 ladies and gentlemen this is the ricardo sada news musica oh che bello i vinili i vinili ah i nastri i nastri no fammi ne prendere uno fammi ne prendere uno i nastri i nastri i gianni rodari della dance la lucarelli del pop caldo siamo al discorso di fine anno via tutte le cose vintage con una macchina del tempo siamo all'anno 2097 in questo istante siamo nel 2097 stiamo parlando di oggi dell'anno in cui è stato scoperto un virus che ha annientato i trolls e gli haters di tutto il mondo a questi ultimi prima venivano cancellati i profili social e poi è successo quello che è successo nel 2020 esiliati sulla stazione spaziale orbitante i contestatori hanno sofferto le pene dell'inferno gli è stato inibito l'accesso alla rete la popolazione della terra è stata decimata da una cometa nel natale del 2018 coesa si è radunata in piazza per celebrare tuttavia questo commiato con un'infinità di feste nei maggiori luoghi di ritrovo del pianeta dal nuovo a pechino capitale del grande imperio orientale a messicoland città di 200 milioni di anime e fulcro del blocco unico americano nel 2042 si è tenuto l'ennesimo e ultimo dj set anche in svizzera ormai inserita nel vecchio continente europeo con turchia albania libano e ucraina era festa grande e i fuochi d'artificio fatti di ologrammi si sono sprecati il tassativo obbligo per tutti i tj cioè i tape jockey cioè devi mixare con i nastri e ovviamente di suonare con i nastri aiutandosi con taglierine al laser il grammofono è già passato di moda i dischi in vinile e i lettori con i tasti sync sono stati banditi dopo le grandi corporazioni nel 2033 i faccino rosi gli estremisti della console sono stati per anni fumo negli occhi per la propaganda i tj ribelli sono stati spesso ripudiati spesso sanzionati ammoniti invidiosi meschini bugiardi piccoli e viziati con grandi poteri e un'anima piccola ecco probabilmente siamo tutto questo dall'anno 2088 la gente è iniziata ad amarsi grazie ai social ma a fatica l'utopia ha quasi preso il posto della distopia le tinte pastello hanno vergato paesaggi brulli e tetri i veicoli autoguidati dalla facebet società nata dalla fusione di un ventennio prima di facebook e alfabet ha accompagnato i giovani allo show in blue beam che ha fatto risorgere stelle defunte che hanno totalizzato milioni di like negli hashtag rip sul palco con orgoglio ha fatto girare le sue bobine un veterano della console john garrison nipote di martin è stato un tripudio di telecamere di droni smartphone che hanno rigettato immagini negli occhiali vr di umani di tutto il mondo ma ovviamente stiamo parlando di passato stiamo parlando di vintage la speranza che qualche forma di vitaliena abbia ascoltato il messaggio sincronizzato con la nuova edm base minimal dirty big groom electro pop nata nel grande impero orientale grazie al tj bill wangen ma le risposte nello spazio tardano ancora oggi ad arrivare eliminata la prostituzione e le religioni proibito il fumo e diffusa la sostanza stupefacente di stato bien etre che ha reso il giornate molto più gioiose ma uggiose è passato l'emendamento che ha radicalmente portato la razza umana a diventare totalmente vegana è emerso nel contempo un grande problema il mondo di oggi è nuovamente spaccato a metà da una parte ci sono gli intellettuali con il famoso hashtag forti difensori della preservazione dei libri cartacei dei gruppi rock di fine anni 70 dall'altra si schierano i talebani della dance music i famosi noisy spesso per le strade a organizzare rave per la tutela della cassa in quattro quarti sono stati scongelati da un ambiente criogenicamente modificato personaggi come belen rodriguez ciché lelef luciana litizzetto maria de filippi umberto eco giovanotti giorgio moroder e davi ghetta che si è risposato con la ex moglie katy il tutore è controllato da bot guardiani nati dopo la singolarità tecnologica del 2029 dal 2088 le pene inflitte a chi infrange la legge sono dure per gli intel l'ascolto di musica elettronica da discoteca sorseggiando la blufitz bevanda isotonica che porta prima alla dipendenza e poi alla pazzia e per i noisy le interminabili letture di libri con un sottofondo da tolkienetz e prokofiev intanto giravoce che mark mills di detroit pronipote del ben più noto jeff si è da mesi candidato per diventare mega presidente del blocco unito americano sfidando un'intelligenza artificiale per la prima volta la terra sta diventando una grande discoteca a cielo aperto gli stati come li conoscevamo sino al secondo decennio del 2000 non esistono più chi vuole ha un proprio ambito e un proprio gruppo tribale sui social ce l'ha citata facebet poi c'è videopedia sulle cenere di wikipedia e youtube è atta a dialogare con gli alieni e macbucks società specializzate in hamburger vegani e caffè chiude il cerchio la sweden amazon supplies che arriva dalla fusione di h&m ikea e che ha con amazon crea pure i più i pop up store experience per il test non virtuale delle merci prima di un loro eventuale acquisto queste controllano tutto il mondo da alcuni quinquenni la mossa di creare e utilizzare una propria criptovaluta investire in mining da dovita dei bitcoins è stata azzeccata il commercio all'ingrosso in attesa di un replicatore di materia a matrice molecolare capace di ricreare qualsiasi varietà oggetto animato partendo dall'energia pura o da una materia inerte tiene ancora banco l'utilizzo del carbon fossile come energia è un lontanissimo ricordo legato al 2045 e anche nanotecnologie picotecnologia microrobotica grafene e boro sono tutti oggi un ricordo è tutta preistoria così come il mondo del lavoro computer quantistici trattano ed elaborano informazioni non interagendo con comandi telepatici quiunque oggi ha a disposizione sangue e organi bionici i più ricchi possono backupare la propria conoscenza nella grande unità un'amministrazione virtuale universale basata su una intelligenza artificiale e un algoritmo siamo arrivati agli amortali in questi anni sono sopravvissuti alcuni Homo sapiens a breve sarà la volta degli Homo Evolutis con l'intelligenza artificiale abbiamo capito che ci sono le risposte a tutte le nostre domande ma dobbiamo accettare una nuova etica è tempo di antimateria senziente che possa godere di diritti civili con questo ci salutiamo vi ringrazio di aver condiviso con me questo splendido 2097 è stato veramente interessante fa un caldo della madonna e niente e quindi io vi auguro buone feste vi auguro tutta la passione tutto l'amore possibile in assoluto state alla larga da quelli madonna ma che caldo state lontani da tutti quelli che vi rompono le balle e ci vediamo l'anno prossimo per il discorso del prossimo anno il discorso del 2098 ciao dal futuro grazie grazie grazie